Gli tengo guerra ancora Tu che mi ha oi So chi è gucumano? Portemelo caffè? Rossa? Ancora noi? Puri io Non si può parlare questa situazione non volevo affrontare nessuno veramente Viva! Ma che vi buttate ragazzi? Si picciare in mano Ripartiamo da due fritture Era buonissima Da due fritture Non facciamo la frittura Lo spiegate adesso al signore E porto me un caffè Quando aveva pulito il caffè Ma tu se non me la faccio? Ma qual è il caffè? Non me la faccio Non me la faccio Faccio me andate alla perché aveva fatta e mi va imparare E mi pare che cosa è servito no? Ripallo un secondo Ripallo un secondo Stai giusto quanto voglio sentire? Si 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 Ma quale pensiero? De fritture Non ne faccio le fritture Ma no era buono vai Chiama muazzino come si chiama? Il cicchetto Ma come cazzo fare? De fritture Non ne faccio Ma voi mi stai lasciando perdere lo tempo? Mi stai scendendo là fuori, non puoi trasidobare perché devo vedere già!